Una zona che negli anni passati ha avuto purtroppo molti incidenti, di cui diversi anche mortali con pedoni, dovuta alla solida problematica e cioè quella dell'alta velocità. Oggi il problema è stato risolto grazie alla creazione di rotonde che costringono gli automobilisti a rallentare, visto che lo spartitraffico che si trova all'imbocco per chi viene da fuori città è distrutto, causa i molteplici incidenti che si sono verificati in quel preciso punto, nonostante i numerosi interventi di riparazione fatti dal comune di Teramo. Stiamo parlando più precisamente di Via Cona, la porta della città terramana del versante montano. Le rotonde di Via Cona è frutto di un lavoro di terra movivicità costante per tre anni e soprattutto voluto anche dalla giunta Chiodi con cui noi abbiamo lavorato veramente a stretto braccio con l'ex assessore Rabuffo. Ci tengo a precisare che dopo queste rotonde fatte in maniera perfetta, studiate proprio tecnicamente per salvare la vita, sono riuscite nell'obiettivo. Dopo la nascita di queste due rotonde in Via Cona fortunatamente non si muore più. In questo caso stiamo vedendo che per la sicurezza stradale c'è qualcosa in cantiere. Tra le cose che noi abbiamo chiesto e insisteremo sono un paio di barre lungo il ponte che sta all'ingresso da Montori a Teramo che segnala ancora di più la rotonda. Chi dice che questa rotonda è troppo grande dice una fesseria, chi dice che questi sparti traffico danno fastidio dice una fesseria. Andate piano, pensate alla vostra vita ma se proprio volete non pensare alla vostra vita pensate alla vita degli altri. La sicurezza stradale è un argomento attualissimo sempre. Gli sparti traffico ci stanno per questo.